bella a tutti ragazzi buona domenica e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e i prossimi giorni a partire da domani perché parleremo ragazzi del nuovo abbassamento del livello dell'acqua vedremo le quest dell'astronave e tante tante news prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio il timer presente nei file di gioco domani lunedì 27 luglio alle ore 9 in teoria o alle 8 alle 9 si abbasserà ulteriormente il livello dell'acqua e passeremo al water level free dovrebbe essere il terzo ultimo abbassamento della stagione abbiamo visto anche ieri alcune notizie abbiamo visto una minimappa e qua facciamo un veloce paragone tra quella di adesso che è quella che vedete qua con quella che sta per arrivare come vedete tutta la zona di foresta frignante praticamente tornerà a riemergere quindi la casa e le altre gli altri edifici saranno totalmente accessibili e ci saranno delle altre migliorie rivedremo completamente moli molesti e anche altre parti che adesso sono ancora sommerse dall'acqua sono più parti appunto che collegano le varie terre una con l'altra riemergeranno quindi ragazzi un ottimo incentivo per incrociare le dita e sperare che finalmente con l'ultima patch della season la 13.40 arriveranno anche i veicoli e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché purtroppo o meglio intanto tanti auguri fortnite ieri è stato il terzo compleanno del battle royale in realtà il compleanno non si è festeggiato perché quella che vedete in qua nello sfondo è l'eroe che si ottiene con le missioni di salva al mondo se non ricordo male bisogna uccidere 20 bombaroli esplosivi ma per quanto riguarda invece il battle royale non ci sono oggetti del compleanno non sono uscite sfide non è stato annunciato niente non è cambiato neanche l'autobus sono totalmente in disaccordo con la scelta che happy games ha deciso di optare per questo terzo anno che secondo me doveva far esplodere perché tre anni per un videogioco a questi livelli credo credo che non se ne siano visti proprio tantissimi in giro negli ultimi anni nell'ultimo decennio però purtroppo non ci sono appunto news avevamo visto in realtà che nella patch 13.30 c'era una torta di compleanno i colori erano leggermente diversi da quella che vi sto facendo vedere adesso ma la forma era uguale torta che somigliava tantissimo al backpack che ci avevano regalato il primo compleanno e invece niente da fare quindi non credo oramai che arriveranno dei regali sono davvero dispiaciuto e cercherò di approfondire del perché hanno voluto scegliere quest'anno di non regalare nulla nel battle royale e diamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che anche oggi è possibile partecipare alla galaxy cup l'ultima occasione per potervi piazzare nella top 10.000 credo che per oggi giochino i qualificati di ieri perdonatemi se sbaglio ma non ho seguito la cup vi ricordo che possono giocare tutte le persone tutti i ragazzi che hanno abilitato il 2 fa che abbiano raggiunto il livello 25 del proprio personaggio e che possono giocare sul galaxy store presente nei dispositivi android quindi i dispositivi che supportano fortnite hanno l'accesso alla galaxy cup non dovete fare nessuna registrazione la troverete nella sezione competi tra l'altro vi ricordo mentre intanto vi faccio vedere la lista dei punti la vittoria sono tre punti la top 25 altri 3 la top 5 2 la top 15 2 un punto per ogni kill e bus fair non so cosa sia forse ogni partita vi da un punto extra giocando 5 partite otterrete la copertura quindi con cinque punti questo è come si presenterà in game la ricompensa qualora riuscite a qualificarvi nei primi 10.000 in europa mentre invece questa è la star scout quindi la copertura per le armi che verrà data al raggiungimento di cinque punti per tutti quelli che non possono partecipare non si preoccupino perché arriverà il 31 luglio nello shop la skin galaxy scout la scioperemo in un bundle dedicato ovviamente pagandola in v bucks quindi staremo a vedere poi per tutti quando arriverà e diamo a parte del prossimo argomento di oggi perché volevo anche ricordarvi che è stata trovata nei file di gioco una nuova punch card che cos'è la punch card sarebbe la legacy quindi la ricompensa che viene assegnata che verrà assegnata per l'arrivo dei veicoli non sappiamo ovviamente come si potrà ottenere io credo che sia dedicata alla ltm forse che arriverà quella del taxi insomma quella che dove dovrete andare in giro per una mappa speciale e raccogliere le stelline e i passeggeri ovviamente appena avremo delle informazioni extra le avrete anche voi andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è ragazzi un grande regalo una grande sorpresa che non si è saputa con precisione fino a poche ore fa la nuova variante dello scudo del cavaliere di livello 100 di questo pass battaglia sappiamo ragazzi che è obbligatorio se volete il bagliore completo sulla skin del cavaliere raggiungere il livello 160 ma è stato appunto scoperta è stata appunto scoperta questa variante che è veramente meravigliosa come vedete qui abbiamo le due i due scudi messi a confronto la variante però nonostante raggiungerete il livello 160 non verrà ancora data sembrerebbe dovrebbe essere ottenibile con le sfide della settimana numero 9 quindi completando tutto il numero di sfide devo dire che questo backpack è veramente bellissimo ed è un bel regalo che ci porteremo come ricordo ovviamente di questa season 3 di questo capitolo 2 vi ricordo dovete obbligatoriamente raggiungere però il livello 160 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché fra pochissimo arriverà anche tutta la mini storyline dedicata alla all'astronave antica in realtà io dico mini storyline ma noi non sappiamo se sarà così abbiamo però i file audio direttamente dai file di gioco ve li voglio far sentire in modo che sappiate a cosa andrete incontro e quindi insomma ragazzi tantissimi file audio dedicati alla navicella dove vi ricordo dovremo fare delle piccole quest trovare le parti mancanti sappiamo che saranno nove tornare alla navicella installare le parti mancanti e ovviamente completare l'installazione ma sappiamo che dovremo anche fermare però la navicella da una nuova ripartenza ovviamente queste missioni sono solamente nei file di gioco non ancora presenti in game sebbene la navicella la trovate sotto l'acqua dietro scogliere ma sono convinto che da domani la potremo vedere emergere visto che appunto si avasserà ulteriormente il livello di là dell'acqua ovviamente ragazzi tutte le sfide della navicella ve le pubblicherò in video dedicati io per oggi con le news ho finito vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale lasciate un bel like e noi ci vediamo domani mattina alle 8 in live su Twitch ciao